Per un vero divertimento alla tua festa, Savio Cavalli, Savio Cavalli, la suora più pazza del mondo, Suor Cavallina, Suor Cavallina, dove quattro di vostri invitati saranno travestiti da preti. Fratello, cosa ti ha portato l'angiovento? Campanello! Campanello! Fratello, cosa ti ha portato l'angiovento? Campanello! Lindo, 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 lindo! Io mi parlo, mi sicurezza che mi dà, scomodo si, perché non so facce mai. Quest'anno all'interno dello spettacolo di Savio Cavalli porteremo anche lui, Sasa Pandetta. Come gotti, come gotti, come gotti, come gotti, buonga si, perché non so faccio mai. Come gotti, qua voglia-ji, voi ti va dire il nostro, l'altro, l'altro è mio papà. Grazie a tutti.